Noi siamo, siamo, domanda la buona Hai diritto a un prodotto? Chi passa avanti i bucci o le vuole darsi? No, vuole darsi Sembra, devi fare una bella virata Dai, stai di qua, stai di qua Gioi Yup, stai di qua Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Sì, non lo so Non lo so Do you want to start a solo tour or no? Watch out Vai subito What the fuck are you doing? You're gonna hit that We're back у Yeah, I can't wait on that one This is gonna be so close You're going to get a new track I can't wait on that one I can't wait on that one I can't wait on that one No, no, no ma anche a lui, per essere sotto a noi ma non tanto viene un po' più giusto qui basta aiutare a venire in via quasi a guidare poi si scende quasi intanto si 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 Sì 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 Grazie a tutti.